si bellissima raga bello 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 a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video raga oggi vi volevo mostrare una cosa un po' bella e un po' no raga sto scherzando ho shoppato il pack da 3,99 raga novità assurda con questo piccone che l'ho shoppato perché il piccone mi piace tantissimo raga ovviamente figuratevi se a me non piacciono queste cose il backpack bello ma non mi fa impazzire raga è bello però non mi fa impazzire ecco la skin invece bellissima raga bella 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 la skin veramente non si scherza con questa skin raga molto bella guardate com'è raga la capaggio subito mi tolgo sto backpack troppo bella raga io l'ho shoppata perché non shoppavo vabbò oltre che ho shoppato il pass ma di pack raga non shoppavo da non so quando da quanto scusate quindi ho shoppato così perché c'è il pack la skin soprattutto più che il pack sono raga stupendi vi consiglio di shopparli di shopparlo il pack scusate ma è bello però l'unica cosa brutta è il backpack cioè rispetto a tutte le cose l'unica cosa brutta è il backpack l'unica cosa brutta è il backpack se no il resto raga tutto bello ovviamente figuratevi se io andavo a shoppare una cosa di schifo figuratevi raga in più c'erano 600 vbucks che sono utilissime ad esempio ma sono 850 e io mi potrei shoppare anche c'è il mantello lo zaino raga che mi piace un botto però il mantello è quello che mi piace più di tutti un attimo eh facciamo così ragazzi raga secondo voi ci sta bene secondo me è un botto secondo me è un botto perché se sto così non ci sta tanto no no ci sta per gg diciamo school diciamo anche però una cosa bella è tipo avere raga non lo so sai sapete perché questo mantello è bello però una cosa bella è forza uno sticker diciamo nero ma è meglio nera così raga secondo me è meglio così che è stupendo così mamma mia raga la cosa brutta sono i questi secondo me però ci sta raga ci sta veramente anche questo è bello bello raga questo video l'ho fatto giusto per vedere un po' cosa shoppo soprattutto raga il prossimo video forse raga scusate ma devo fare questo tutorial però se non arrivi a me dici like raga non lo posso fare quindi non l'ho anche il video di among us raga due importanti cose il video del tutorial sicuramente raga oggi non ce la faccio affogliarlo magari forse quello di among us si perché forse raga ma secondo me neanche quindi meno 600 vbac quindi non comunque queste skin io le vorrei un botto mamma mia che sono belle trovo tutto le skin di oggi john e si raga però mi hanno colpito un botto lo sto back perché mi piace l'olo zaino c'è l'olo zaino in realtà non tanto perché guarda guardate eh c'è sta non sta benissimo si è bello raga eh di essere bello proprio se gli scoppio questo tutta la vita c'è eh è bellissimo questo mantelocco perché te lo puoi di tutti i colori che vuoi raga sta tema su tutto non non si può buttare nel cesso infatti raga io me lo verrei tantissimo a scioppare ma con la skin il colore primario ci sta così o nero così e così o no raga non mi sbaglio scusate così nero e rosso così ci sta oppure così forse è meglio così più chiaro ah ma sto facendo la seconda parte ecco perché dicevo la prima scusate ma no no ancora più chiaro no non questo questo è più scuro no raga così così fidatevi così così e sticker questo sarebbe bellissimo ecco per questa skin per questa skin così va bene ed è anche tryharder eh una cosa brutta che a volte si bug però guardate com'è tryharder raga guardate eh guardatelo che non è tryharder che secondo me è un botto tryharder questo mantello se non si bug ovviamente raga io non me lo shopperei però è bellissimo cioè me lo shopperei scusate me lo shopperei però non me lo vorrei shoppare per i vbucks perchè non dico che ho tantissimi vbucks no non mi piace tanto non mi piace tanto questa copertura invece mi piace la salsiccia raga ma questo skin non ha piccone dai la vorrei si che ce l'ha ah no quello neutro questo pure è bello raga fatti una risata bella vabbò raga che dire è bellissimo proprio bello 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 questo pack niente ragazzi grazie a tutti della visione mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi ragazzi grazie a tutti alla prossima ciao